Abbiamo letto con attenzione la relazione del garante per i detenuti per il 2016 e ancora una volta, come lo scorso anno, la troviamo espressione di ideologismo buonista. Addirittura il garante auspica la riapertura di una discussione sulla pena perpetua, sull'ergastolo, che evidentemente noi siamo contrari. Il garante non può che osservare la realtà che sta vivendo il nostro Paese, e qui leggo testualmente le parole del garante. Il numero dei detenuti ha ripreso a salire in Italia e si è superata la quota di 56.000, mentre in Toscana i posti regolamentari disponibili sono circa 2.800 rispetto alle presenze vicine alle 3.200 unità. Poi il garante fa riferimento a una serie di istituti con gravi problemi di sovraffollamento, Firenze-Sollicciano, Pisa, San Gimignano, Livorno. La nostra posizione è chiara ed è sempre la stessa. Il problema del sovraffollamento carcerario non si risolve, non si affronta e non si risolve con i provvedimenti svuota carcere. Qui siamo sempre stati contrari, così come non si risolve con una nuova legislazione in materia di droga. Il problema del sovraffollamento si affronta e si può risolvere attraverso la costruzione di nuove carceri. Il miglioramento dello stato di manutenzione è straordinario di quelle esistenti, e l'impiego delle carceri già esistenti e mai utilizzate. Il fenomeno delle cosiddette carceri fantasma. Siamo e saremo sempre contrari ai provvedimenti svuota carcere, perché la conseguenza degli svuota carcere non può essere che l'abdicazione della potestà punitiva dello Stato, la mortificazione delle parti offesi, inevitabili ricadute sulla sicurezza dei cittadini, e, per ultimo, la mancanza di una certezza della pena. Del resto, che i provvedimenti svuota carcere non possano far diminuire il numero dei detenuti, lo dimostra appunto che il numero degli stessi detenuti è ripreso a salire. È un dato chiaro. Occorre piuttosto mettere in evidenza, come in Toscana, su circa 3.200 detenuti, ci sono 1.500 circa di origine straniera, quindi circa il 47%, un dato molto più alto della media nazionale, che è del 34%, e quindi non si può che premere sulla stipula di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri. Questa sì sarebbe la strada da seguire per ridurre il numero dei detenuti nel nostro Paese. E trovo questa occasione importante anche per tornare ad esprimere la nostra contrarietà per quanto c'è stata la chiusura degli ex OPG. Siamo sempre stati contrari a questa chiusura perché gli OPG ospitavano dei soggetti socialmente pericolosi a senso della normativa penale e le nuove REMS non danno garanzie in termini di sicurezza. I garanti detenuti, quello nazionale che è previsto per dare esecuzione ad un obbligo internazionale dell'Italia e quelli regionali e comunali sono minuscole foglie di fico rispetto al disastro del sistema carcerario italiano. In contrasto con l'opinione del garante nazionale e di quello regionale, torniamo ad esprimere il nostro auspicio per l'istituzione di una e una sola figura di tutela regionale, il difensore civico, con l'accorpamento delle funzioni del garante per i detenuti e del garante per l'infanzia in un'unica figura appunto, con un compenso adeguato ma non esorbitante e con una dotazione in grado di provvedere a tutti i compiti di vigilanza, anche a quelli più recenti, dato che, come ricorda lo stesso garante, l'approvazione del decreto sull'immigrazione ha previsto che in ogni regione sia presente un accento per l'identificazione e il rimpatrio dei rifugiati e queste funzioni di vigilanza spettino appunto al garante. Grazie Presidente.